Avete dischi in vinile storti, rovinati, bombati? Non c'è nessun problema, c'è un sistema molto semplice ed economico per sistemarli. Si prendono due tavolette di MDF o di compensato da 15 o 20 millimetri. Sul lato si incolla un foglio di gomma, di plastica, di teflon, non troppo morbida. Si fa un fuori in mezzo più grande dell'etichetta, si praticano cinque fori, in questo senso, e sul lato si attaccano le viti, si incollano. Poi, non c'è altro da fare che prendere il vinile storto, questo è dritto ma va bene lo stesso, si infila in mezzo, si copre, si chiude, e 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 si stringe ma non troppo e poi lo si mette nel forno a 80 90 gradi per 15 20 minuti. Si lascia raffreddare e una volta freddo si riapre e il vinile completamente spianato e e e